Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sonia Bruganelli, una delle concorrenti più discusse di Ballando con le stelle, ha attirato l'attenzione per le sue performance criticate. Nonostante il suo impegno, è finita penultima in classifica sabato scorso. Durante la vita in diretta ha spiegato di essersi rotta una costola durante l'ultima esibizione, quando si è seduta a terra per evitare di svenire. Ha chiesto scusa per le risposte aggressive, ma non ha perdonato Selvaggia Lucarelli per le critiche ricevute. Bruganelli ha chiarito di essersi sentita attaccata gratuitamente e ha difeso il suo ruolo di madre. La concorrente ha rivelato di essersi sentita ferita dalle parole di Lucarelli, che ha definito la sua esibizione ridicola. Ha sottolineato di aver messo in gioco molto di sé e di non aver apprezzato il tono sprezzante della giudice. Bruganelli ha confessato di essersi sentita piccola e vulnerabile, ma ha difeso la sua dignità di madre. La concorrente ha spiegato di aver reagito in modo impulsivo per proteggere la sua famiglia. La sua esperienza a Ballando con le stelle si è rivelata più intensa del previsto, ma Bruganelli ha dimostrato di avere una grande determinazione. La concorrente ha promesso di continuare a lottare per dimostrare il suo valore, nonostante le critiche e le difficoltà incontrate durante il prossimo episodio.